Ehi, volete andare in vacanza serenamente? Avete tre possibilità. Uno, nascondere i contanti. Forse erano meglio le maniche lunghe. Due, fare il bancomat a domicilio. Che colpa ne ho io se hai perso il portafoglio a Londra? Amore, non alzare la voce perché è già tanto che vengo lì a portarti i soldi. Sì, sì, mi sto avvestendo. Adesso vado. Tre, risparmiare sulla meta. Mi raccomando, quando arrivi chiamami. Ah, tranquillo, ho dieci minuti e sono lì. Guardate, per arrivare a Barcellona ci vuole un'ora e mezza. No, ma Barcellona è sopravvalutata. Poi non c'erano offerte convenienti. Abbiamo trovato un bed and breakfast qui dietro. Bellissimo, vedete che stanza. Poi c'è pure l'asfalto. Oppure affidarsi ad AIP. Viaggi leggero, controlli le spese, inviei denaro in tempo reale e accedi a offerte esclusive. Com'è andata la vacanza con le amiche? Non è proprio il posto più esotico che avessi mai visto. La prossima volta, prima di prenotare. Dai un'occhiata, dai. Hai tutte le offerte a portata di click.